Mad World così, cantavano poco fa i Tears for Fears, un mondo pazzo che però noi amiamo. Amiamo perché no, vorremmo girarlo, conoscerlo, poterlo apprezzare magari senza girarlo in aereo, toccandolo, vivendolo, cercando di entrare in contatto con le tante persone così differenti, come le culture sono differenti sul nostro pianeta. C'è una persona che è qui a quanto a me, in questo momento, che ha provato, credo, queste esperienze e molte altre che ha raccontato, ad esempio, nell'incontro qui all'Alpi Bike Experience. Sto parlando della testimonianza e della presenza di Paola Gianotti qui con noi. Ciao Paola, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi. Ben arrivata. Keep Brave è il nome che hai dato al tuo progetto di divulgazione, di motivazione, keepbrave.com, questo è il tuo sito. Traducendolo in maniera maccheronica dall'inglese, possiamo dire, mantieni in coraggio, continua ad essere coraggioso o coraggiosa, qualcosa del genere. Sì, esatto, forse un non mollare, non mollare mai, non mollare mai sui pedali, non mollare mai nella vita, poi lo sappiamo, la bicicletta è un parallelismo perfetto con la vita e quindi quando sei in salita che vuoi mollare, lasciare perdere, io mi ricordo il mio Keep Brave e dico, devo andare avanti per forza. Ecco, che cosa può spingerci ad andare avanti per forza? Dire, mi fermo un attimo, prendo fiato e riparto? Perché magari in quel momento in cui ti fermi, dici, caspita, però potevo continuare, perché non ho continuato? È sempre una gara con noi stessi? Sì, sicuramente è sempre una gara con noi stessi. Quello che non ci fa mollare mai, secondo me, è la passione che arde quando fai qualcosa che ami fare e quindi per me la pedalata è diventata la mia vita, la pedalata è emozione, l'ho detto prima nel talk, è libertà, si ritorna bambini, si viaggia e si sogna. E quindi anche se stai faticando, anche nella fatica poi trovi soddisfazione e quella soddisfazione che trovi ti fa continuare ad andare avanti e dici ok, non posso mollare, faccio ancora un tornante, perché poi noi ciclisti diciamo, quando poi fai il tornante poi spiana. Non è mai vero, ma ci proviamo. È un'illusione che magari il ciclista o la ciclista ha. Ecco, quindi parliamo di obiettivo, avere sempre un obiettivo davanti a sé. Penso che sia la prima delle motivazioni, credo. Tu sei anche una speaker, sei una motivatrice, una coach motivazionale tra le attività che svolgi. Paola, avere l'obiettivo davanti a sé, essere ossessionati e ossessionati e ossessionati dagli obiettivi può essere anche dannoso. O come possiamo relazionarci? Arrivo alla domanda. Come possiamo relazionarci con gli obiettivi? Sicuramente, in primo, come hai detto tu, bisogna averlo. E quindi bisogna avere chiaro l'obiettivo che si vuole raggiungere. Secondo me, oltre che l'obiettivo, una visione. Una visione chiara di dove si vuole andare, del traguardo che si vuole raggiungere, ma soprattutto di chi si vuole essere. Perché poi, quando sei la persona che vuoi essere, quando stai facendo quello che realmente vuoi fare, puoi investirti una macchina nel mezzo dell'Arizona mentre stai facendo il giro del mondo in bici, ma tu vai avanti lo stesso perché hai quella visione chiara di voler fare quella cosa. e quindi non c'è niente che ti può fermare. Tu sei la donna che ha circunnavigato più velocemente il mondo. Leggo sul tuo sito, keepbrave.com. Hai circunnavigato, hai girato il mondo, non so quanti chilometri fossero, però mi sa che erano tanti, migliaia e migliaia, insomma. Trentamila. Trentamila, te lo ricordi ancora. Quanto ci hai messo a realizzare questa impresa? Ci ho messo 144 giorni. Ed è stata l'impresa che mi ha permesso di cambiare vita. Quindi, in realtà, io prima facevo la consulente finanziaria e poi mi sono rinventata e sono partita per questo giro del mondo per cambiare vita e fare delle mie passioni e il mio lavoro. Ecco, anche in questo caso avevi una visione, evidentemente. Un obiettivo importante è quello di cambiare il tuo modo di percepire la vita. Qual è stato il click che ha permesso tutto questo? Il click è stato un fallimento. Un fallimento è il fallimento della mia società che avevo, che avevo deciso di aprire per scappare da un lavoro che non mi piaceva, però purtroppo non è andata bene e quando mi sono trovata senza niente avevo due opportunità. Tornare a fare un lavoro che non mi piaceva o trasformare completamente la mia vita. E quindi quel fallimento è stata l'opportunità per rinventarmi. Trasformare il lavoro in una propria passione può essere, tra virgolette, pericoloso? Cioè, nel senso, finché una passione è qualcosa che ci serve per andare avanti e di viverlo non come un lavoro, non come un impegno, tra virgolette. Non so se sono riuscito a spiegare il concetto. Sei chiarissimo, ma no, secondo me non è pericoloso perché quello che stai facendo, se veramente quello che ami fare, diventa parte della tua vita. Quindi io non distingo più il lavoro dalla mia vita personale. È un tutt'uno. Quindi quando lavoro sto anche vivendo la mia vita personale e quando vivo la mia vita personale lavoro anche. E quindi non essendoci più distinzione, ogni giorno è il giorno che vorrei vivere. Secondo me quella è la cosa più bella. Un'altra domanda, suggestione che mi viene in mente pensando alla tua esperienza, Paola, è quella di, come abbiamo detto in apertura, incrociare tante storie, incontrare tante storie, tante persone, tante culture. Immagino che in questo giro nel mondo che hai avuto modo di compiere con la tua bicicletta hai avuto modo di incontrare tante culture e anche tanti modi di vedere una donna in bicicletta in giro per il mondo. Che significato ha per te tutto questo nel 2024? Sicuramente è un significato di indipendenza e di capire che quando inizi a girare, quando inizi a confrontarti con il resto del mondo, con le altre persone, c'è sempre da apprezzare il luogo in cui si vive e quello che si ha, che noi invece diamo sempre per scontato. E forse oggi come oggi, soprattutto da donna, avendo anche attraversato paesi musulmani, quindi dove le donne non possono pedalare, ancora di più ho questa chiarezza del fatto che bisogna lottare per i propri diritti, per cambiare le cose nel mondo ed è quello che io faccio attraverso la bicicletta. Un'ultima domanda e ti ringrazio per essere stata con noi, Paola. Più che una domanda, è una voglia di condividere una sorta di album fotografico con te. Le prime quattro immagini che hai voglia di condividere con noi in questa chiacchierata su RBA provenienti da questo Giro del Mondo. Allora, del Giro del Mondo, la prima è il deserto di Atacama, quindi pedalare di notte nel deserto di Atacama, che è uno dei deserti più aridi al mondo, ma con queste luci, questi colori pazzeschi al tramonto e di notte ascoltando le mie canzoni preferite. La seconda? La seconda, i bambini che mi venivano incontro in Thailandia per battermi il 5, i bambini che non hanno niente ma che sorridevano. La terza, l'incontro con un giapponese, un signore giapponese che girava il mondo da solo con un carrettino nel deserto del Nullarbor in Australia, trascinandosi un carretto, trascinandosi questo carrettino in questo deserto. E l'ultima, l'accoglienza incredibile della mia città quando sono arrivata a casa. Quale era la tua città? Ivrea. Ivrea. Quindi, insomma, un ritorno a casa che ha permesso di riempire quella tua valigia, quel tuo zaino di tante esperienze, immagino. Chissà quante persone in realtà giravano il mondo in quel momento contemporaneamente a te da sole. Ne hai incontrate diverse. Adesso hai parlato di questo signore giapponese. Sì, ne ho incontrate tante. Ho incontrato un signore spagnolo che stava girando il mondo in bici, era stato anche lui investito da una macchina e aveva anche lui ripartito. E quindi tantissime, tantissime. Insomma, si può fare citando un film. Evidentemente si può fare. Si può fare Keybrave. Esatto. E salutiamo così palagianotti, keybrave.com questo è il sito. Invitiamo anche a seguire sui social Paola. È sempre molto edificante e formativo. Tu appunto poi tra l'altro fai anche questi corsi, questi incontri col pubblico come quello che c'è stato qui oggi qui alla P-Bike Experience. Io ti auguro sempre di trovare questo entusiasmo, anzi entusiasmo sempre nuovo. Tornagolo davvero col cuore. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Continuate a sognare. Ciao. Ciao.